Per me questa storia, ancora non è chiara, del maschio, mazzo, uomo, cioè il mazzo, maschio corrisponde alla femmina, alla femminilità, mentre l'uomo è donna, corrisponde alla donna. Ma non sempre un mazzo, un uomo, capito? Io stiamo dicendo una cosa, che è un concetto. Non tutti gli uomini sono tutti, tutti i maschi sono uomini. Hai capito? Non, 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 non. E' solamente a noi, sono io qui uo, come un uomo.